Aldo e Vittorio molto piacere piacere parcheggiati alla casa di riposo senza nessuna voglia di riposare io dico che qui finisce male anzi per i filmissimi di canale 5 grande prima di più Renato Pozzetto ed Ezio Greggio infelici e contenti sempre meno infelici sempre più contenti infelici e contenti unedì bella e coraggio canale 5